Eccoci qui ragazzi allora, benvenuti in questo mio nuovo video sul canale, prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare subito tanti mi piace per supportarmi e se volete un'iscrizione al canale, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati, ve lo dico perché domani, non so bene a che ora, uscirà un video molto molto importante appunto su questo canale, quindi se non vi volete perdere la notifica visto che YouTube si diverte a mandarne una sì e dieci no, attivate la campanella per essere tranquilli. Detto questo ragazzi allora parliamo un pochino di Lazio-Milan, ma più specificatamente parliamo di quello che è successo alla fine della suddetta partita con Donnarumma che andando a parlare con Reina, suo ex compagno fino a qualche mese fa, si è lasciato andare ad una risata molto molto polemica, che comunque ha portato a numerose polemiche di tifosi che adesso gli stanno dicendo di tutto e di più, come è prevedibile visto che il calcio, come ha detto spesso e volentieri, tira fuori il peggio di noi nei momenti meno opportuni. figlio di puttana, pezzo di merda, devi morire, vuoi soltanto i soldi, sei un mercenario, battene, vuoi la fascia, vuoi i milioni, ma fai schifo, ridi dopo una sconfitta, ci prendi in giro, noi piangiamo e tu ridi. Per fare un esempio di quello che è stato detto, allora, io ho detto nel titolo, ho scritto nel titolo che per me ha sbagliato tutto, tutto. Non per questo però, e voglio specificarlo fin da subito perché magari qualcuno può fraintendere, sono d'accordo con chi lo sta insultando. Per me gli insulti, soprattutto legati alla morte sua o di suoi parenti, sono la cosa più ridicola e imbarazzante che ci possa essere, che ti fa capire fin da subito la capacità mentale di certe persone. Gente che è andata ad insultare e ad augurare la morte al figlio di Pirlo solo perché Pirlo è uno stupratore, è un assassino. No, sta facendo male, ha la sua prima esperienza di allenatore, sottolineiamo, alla Juve. Stessa cosa, Duncan, un tifoso romanista, si è andato a lasciare epiteti tipo negro o cose di questo tipo, devi morire tu, tua madre, tua nonna, solo perché? Perché? Perché ha giocato nella squadra che ci ha battuto, perché ha fatto tanti falli, cioè capite che qua stiamo raggiungendo livelli astronomici di imbecillità purtroppo dovuti allo stress, senza giustificare nessuno, allo stress del covid e delle chiusure, al permesso di usare i social a chiunque, cioè per il fatto che i social vengono permessi a chiunque e tutti, anche i ragazzini, si sentono in diritto di dire la prima cosa che gli passa per la mente e succede quello che succede. Secondo me, infatti, i social sono un'arma a doppio taglio. Bene quando si tratta appunto di vedere cose, informarsi, tutto quanto. Quando si tratta di sparare puttanate sono diventati un modo per aggravare le cose e non sistemarle. Detto questo, premettendo prima di tutto che appunto gli insulti verso di lui, la sua persona e gli auguri di morte sono inaccettabili sotto ogni punto di vista, Donna Rumma è stato di un'ingenuità colossale, di un'ingenuità imbarazzante. Tu vuoi ridere con Reina? Tu sei amico di Reina? Assolutamente, sono d'accordo, parlo d'esterno, ci mancherebbe altro. Sei amico, ci sta, comunque siete stati nella stessa squadra per un po' di tempo, comunque sicuramente è stato anche chioccia per te, cioè un portiere esperto che ha tanti anni di carità dietro, quindi sicuramente ci può essere un rapporto di amicizia. Ma in quel momento, dopo aver perso 3-0, soprattutto con i tifosi arrabbiati e la polemica sul tuo rinnovo che ancora non si placa, e le voci di un arrivo alla Juve che non sono mai state smentite del tutto, tu mi puoi fare un gesto del genere. Cioè tu, Donna Rumma, sei giovane, per carità, ma sei all'interno del calcio e nel mondo del calcio da anni. È del 99, ma è dal 2015 che Donna Rumma sta in Serie A, quindi pensate da quanto è che ha iniziato. Tu, dal 2015 al 2021, non pensi alle conseguenze che puoi portare con un gesto del genere. Già c'erano stati dei casini, quando appunto c'era la questione rinnovo, sembrava che dovesse essere messo fuori rosa, poi in realtà è tornato con 5 milioni di rinnovo, più l'ingresso del fratello scarso, eccetera, eccetera. E fin lì la situazione si è calmata, tra virgolette. Da quei momenti in poi il portiere comunque è diventato fortissimo. A parer mio, a livello puramente tecnico, parliamo di uno dei portieri più forti del mondo. Quindi, ancora di più, devi stare attento a qualsiasi cosa fai, perché sai che verrebbe ingigantita per cento volte. Nel momento in cui tu prendi tre pappini dalla Lazio, soprattutto esci per la prima volta dalla zona Champions e rischi di non raggiungere un obiettivo che per quello che hai fatto per tre quarti di questo campionato doveva essere scontato e in realtà non lo è più, fare un gesto del genere è la cosa più sbagliata che si potesse fare. È la cosa più sbagliata. Qua non si tratta di non avere rapporti con un proprio avversario, sia chiaro. Perché io al tempo difesi i pellegrini quando aveva fatto gli auguri a Immobile per il suo complanno sui suoi social. Ma come disse De Rossi in un'intervista successiva, perché l'hanno domandato a lui, anche se in realtà lui, vabbè forse perché era l'ex capitano, ha detto che, in parole povere, che il rapporto ci può stare, ma che certe cose se venissero fatte in privato sarebbe meglio. Perché non bisogna mostrare questo rapporto di amicizia? Sì e no. Nel senso che non ci sarebbe nulla di male. Ma sappiamo come funziona da queste parti, sappiamo come funziona in Italia, sappiamo come funziona nel mondo del calcio. Fai una cosa del genere, ti accusano di aver fatto chissà che, di essere andato a nozze con il nemico, di avere amicizie nei nemici. Cioè, capite come funziona, no? Cioè, i social, come ho sottolineato, sono un male. Sono un male. E il problema è proprio questo. Il fatto che lui non ha capito che un gesto del genere poteva far esplodere la polemica. Perché i tifosi sono arrabbiati perché, giustamente, il Milan è settimana e che non è più lo stesso Milan. Perché è appena perso 3-0 in maniera netta contro la Lazio. A proposito, mi fa ridere perché non ho fatto la recensione, ma mi fa ridere che nel calcio gli episodi si bilanciano sempre. Cioè, nel senso, la Lazio con Napoli aveva detto che l'episodio del rigore aveva falsato la partita. E ieri, possiamo dire che sul 2-0 c'era un fallo grosso come una casa su Cialanoglu. Però la Lazio ha comunque meritato di vincere. Entrambe sono state partite in cui la squadra che ha vinto ha nettamente meritato. Però c'è stato un episodio che ha scatenato delle polemiche. E' per farvi capire che nel calcio, non sempre, ma più spesso e volentieri, gli episodi si bilanciano. Quindi, come la Lazio non era stata derubata in maniera clamorosa a Napoli, sicuramente non ha fatto il furto con il Milan. Piccola parentesi, perché ne volevo parlare ieri, ma non ho avuto tempo per farvi un'effettiva recensione. Tornando sulla questione della Roma, però, tu sei anche in mezzo ad un rinnovo importante. Cioè, tu stai chiedendo alla tua squadra tanti milioni e sai bene che, non andando in Champions League, rischiano seriamente di non poterteli dare. Ok che un giocatore dovrebbe sempre pensare al proprio futuro. Anzi, no, pensa sempre al proprio futuro. Difficilmente un giocatore mette la propria carriera sotto la propria squadra. Come ha fatto ad esempio Totti, che poteva avere una carriera dieci volte più vittoriosa, con mille trofei e mille riconoscimenti in più. Ha preferito stare nella Roma, che per tanti anni è stata una squadra che non valeva un decimo del suo effettivo valore tecnico. Che non lo meritava. Una sorta di belotte al Torino, un depolo all'udinese per intenderci. E senza paragoni tecnici, sia chiaro. E difficilmente i giocatori guardano al proprio futuro, senza pensare un pochino a se stessi. Però un minimo di riconoscimento nei confronti del Milan, che comunque ti ha fatto nascere praticamente, ti ha fatto diventare un giocatore importante, dandoti fiducia quando ancora non avevi neanche 17 anni, è una cosa che non penso sarebbe successa dappertutta, io ce l'avrei. Cioè un minimo di riconoscimento ce l'avrei. E lo ripeto, non voglio far passare una semplice risata come il gesto più cattivo di tutti, come un dito medio nei confronti dei tifosi del Milan, sia chiaro. Ma è proprio il momento, è il momento che non andava bene. Cioè tu subito dopo una sconfitta, almeno davanti a tutti, ma non far vedere che ridi come se non fosse successo niente. Poi magari in privato parli con Reina, negli spogliatoi, perché ormai hanno tolto le telecamere, no? Mi pare che sì, le hanno tolte. Prima c'erano sempre le telecamere, adesso le hanno tolte. Negli spogliatoi parli con Reina, ci fai due chiacchiere dopo e finisci là. Non è una cosa che è successa adesso, e sia chiaro perché ricordo che Totti ha detto che con Nesta non poteva uscire perché se no la massacravano perché dicevano, è il capitano della Roma sta con quello della Lazio, eccetera, eccetera. Però in generale, proprio perché è una cosa vecchia, cioè tu devi stare attento a quello che fai. Devi stare attento perché non sei un... non sei tuo fratello, per intenderci, con tutto rispetto. Non sei una persona che alla fine gli ne frega poco a nessuno. Dopo una partita del genere, tu sei nel mezzo della polemica per un'questa di rinnovo e la tua squadra è nell'occhio del ciclone dopo una sconfitta così importante. Non mi può fare una cosa del genere. Io stesso mi sarei incazzato come una bestia, ma non perché non posso avere rapporti di amicizia con Reina, ma perché in quel momento, ridere in quel modo, mi dà la sensazione di menefreghismo, di uno che non gli frega niente del fatto che ha appena preso tre pappine e si va avanti così. Si va avanti, cioè almeno all'apparenza cercate di fare felici questi tifosi, felici nel senso cercate di fargli capire che non siete contenti di quello che è successo. Comportarsi in questo modo, secondo me, è stato più che da stronzi, perché molti lo sanno accusando di essere stronzi, da ingenui. Un'ingenuità, secondo me, colossale, perché in quel momento tutto dovevi fare meno che far vedere una cosa del genere. Non hai fatto nulla di male nel gesto in sé e nel dimostrare di essere amico con Reina, ma è come se avessi dimostrato a tutti che non te ne frega una sega. E a molti tifosi, soprattutto i più passionali, è una cosa che non sta bene, è una cosa che dà molto fastidio e in parte li capisco. Non giustifico gli insulti, sia chiaro, ma capisco che siano rimasti amareggiati, perché io al loro posto, con un portiere che è da sei anni che sta da noi e dopo una sconfitta così pesante ride come se niente fosse, ci starei male. Perché lo so che non è una risata riferita alla sconfitta, ma proprio emotivamente per lui è come se... sembra che come se non fosse successo niente. Però era solo una mia opinione. Mi sono voluto intromettere, diciamo, nel discorso di Lazio Milan perché appunto, avendo vissuto un episodio simile con Pellegrini e Immobile, volevo dire la mia. Non è sbagliato il gesto, ma il momento e il luogo. Ecco, citando il famoso Professor Occo dei Pokémon, c'è sempre un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora, lo diceva lui, non me ne frega niente. Comunque, poteva farlo dopo, fuori dai riflettori, e avrebbe fatto tranquillamente meglio, e tutti quanti lo avrebbero giustificato. Un saluto dal vostro, Gatorielo Rosso 94, vi ricordo che domani appunto ci sarà un video molto importante su questo canale e vi aspetto in tantissimi perché ci tengo particolarmente. Un saluto e sempre, e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!